Più che un attacco noi riportiamo semplicemente quello che accade in Italia e che spesso non viene comunicato ai cittadini. A fine luglio Italia ha venduto parte delle proprie reti di distribuzione energetica del gas e dell'energia elettrica a una società di proprietà pubblica del governo cinese. Questo contrasta chiaramente con quelle che sono le strategie di sicurezza energetica della Commissione europea e la svendita degli asset strategici nazionali e quindi europei ci espone sicuramente a dei rischi e rende Europa ed Italia ricattabile per quanto riguarda il discorso energetico. Abbiamo visto cosa sta succedendo in Ucraina ma se continuiamo su questa via i fenomeni simili si possono ripetere anche in altre occasioni.